31 luglio, chiudiamo per il periodo estivo con un grande appuntamento. I primi di settembre il tema del rinnovo delle concessioni autostradali sarà il tema caldo per le nostre istituzioni. Sì, credo che sia un buon modo per lasciarci per le vacanze. È un tema importante, è un tema su cui il Consiglio della città metropolitana, ma credo anche il Consiglio regionale, possa essere unanime e sarà unanime nel dire al Ministero che noi rispettiamo certamente le norme nazionali e comunitarie, ma abbiamo un problema sul territorio, un problema di infrastrutture che aspettiamo da anni e che vogliamo vengano recepiti in questa concessione, è un problema anche della società che è un patrimonio del nostro territorio e che deve essere ricompresa in una valutazione complessiva che veda appunto non depauperare un valore anche economico per la città metropolitana.